Grazie di aver scelto il mio prosecco superiore. Io sono Gianluca Bisol, presidente di Bisol 1542, e adesso ti darò qualche consiglio su come degustare il mio prosecco superiore. Colore. Un bel giallo che denota un'uva matura. Qui tutte le caratteristiche del prosecco emergono, quindi la mela, la pera, la pesca. Allora, addirittura ci sono delle sensazioni di frutta tropicale. In bocca è pieno, ma allo stesso tempo, pur avendo una bella acidità ed essendo secco, ha anche questa bella cremosità che ti riempie il palato e se ne appropria per lunghi secondi. Consiglio degli abbinamenti che vanno proprio dall'aperitivo, dalle olive spolane al fritto di pesce, ma anche i salami, gli affettati. Ma mi spingo anche a consigliarvelo con i primi piatti. Lì ci si può addirittura anche allungare a un secondo se è di pesce. Davvero ci si può sbizzarrire con il nostro prosecco superiore. Spero che i miei consigli ti siano stati utili e mi raccomando, ricordati del prosecco superiore Geio di Bisol 1542. Lo troverai sempre negli scaffali d'Espan. Grazie a tutti.